Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio camera 89, non sono diventato un polaretto ma bensì ho preso il sole e se vede anche il coso da guffia no, quella bellissima Da come avete visto su facebook e su instagram che trovate il link in descrizione ho dovuto cancellare dei video su youtube compreso questo che stiamo per commentare insieme Quindi ragazzi tanti tanti like perché stiamo ricommentando e molti di voi staranno vedendo per la prima volta una delle mie chatroulet ma bensì il meglio delle chatroulet che ho fatto fino a un certo punto Quindi mi raccomando ragazzi tanti tanti like ci vediamo su Eccoci ci siamo 400 iscritti 400 iscritti Con me c'è mio poterlo Anche detto Nigio ormai Ok c'è Joker Poi abbiamo il nostro Gino Frantate Buon divertimento Ok grazie gentilissimo Ciao a te Raga io una centroulet la devo rifare per forza Non dista cazzate Mamma mia C'è carino Oddio sta vicino No raga c'è Porca miseria Porca miseria Matti per me che ti piace Guarda sta vicino a tutti Guarda 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 ti Ti cerca Purtroppo poi i video stanno un basta risoluzione Che fai a dire Obama È Gesù Cristo nella barbe che è meglio Ma direi che è Gesù Cristo ma no Obama È pure nero Obama è nero Eh Vabbè no lo dico Saddam Adama O s'adama O dama S'adama O dama Ho detto s'adama O dama S'adama Ha detto o dama Rennio Va bene Sarite Va bene Senti come sarite questo Così non va bene Così non va bene Guarda 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 del mio fratello Mella c' см Oddio ragazzi Ragazzi Guardate qui c'è il leader Quelle famose del 3 scuole Che puttana Che buono Ma quanto tempo che non vedo sti video ragazzi La zucchina Guarda che zottina Oh raga Lasciate un like se li volete Chatterò like ragazzi E me ne dire quantità Oh 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 Ci ci Guarda quanti eravamo qua Ciò di capizzo Ragazzi Il bobs Perchè miseria Moraccio Vorrei aver fidanzato un po' da fa niente Ok 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 Va bene Va bene No raga No raga Qua Qua Raga Qua Qua Porca miseria Porca miseria Mi devo ricordate cambia il tono della Della canzone qua perchè sennò è un casino raga No C'è praticamente abbiamo messo la ragazza del amico mio A fa la provolona A fare la provolona per vedere come si comportava la gente Un quanto ritardo No 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 Che figura Della canzone Perchè c'è due ragazzi perca puttana tutti che stiamo nascosti bellissimo c'è abdul te guarda abdul e poi sotto facciamo un casino incredibile dai raga tra po' arriva un pezzo te giuro raga e no il dito non si fa eh raga 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 guardate tra po' l'amico mio che fa c'è il ragazzo testa ragazza guardatelo guardate la sinistra guardate la sinistra guardatelo guarda guarda che io ho la mena ahahahahah io poi sono settecentosedi e mezzo ma te verrà un piccolo dubbio qua poi ho dovuto tagliare che fa cose incredibili mi è andata avanti per tanto eh orca miseria guardate il ragazzo non face la pinta di scrivere Chi dice? Ma dai La ragazza parla quasi due anni e mezzo fa Chi sminica? Ma non si dice Oddio c'è Slender in camerezza Bella ragazzi Benvenuti nel video bonus Dei 1100 iscritti A una mafata E come potete vedere dietro alle nostre spalle Abbiamo Slenderman Che ci ha onorato Dalla sua presenza In più abbiamo questo simpatico strumento Sentite sentite Che chiamerà il nostro personale Ambrogio Salve Ambrogio Salve ragazzi Ambrogio mi vuoi portare un bicchiere d'acqua? Certamente Andata molto buona Mi raccomando Tipo 20 anni fa Ok iniziamo subito a cercare Ambrogio Grazie per l'acqua Grazie Ambrogio Gentilissimo 2000 e... Oddio Ma sei tutto scimmia? C'è pure il costume di scimmia C'è pure i peli praticamente C'è sei tutto scimmia You monkey Scimmia Now Yes Scimmia monkey C'è pelo Peloso Sempre gustoso No raga No Qui è bellissimo Ma è bellissimo Ciao bello Ma è robotissimo Stavo Gira 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 Intanto c'è Slender Che dai camcciata addosso a... Arbobbiet Slender si sta ammazzato dietro No pure questo Hello man Hello boy Hello man Don't know Mexicans Obama No Mexicans Come si chiama? Come si chiama? Antonio Montana Antonio Montana Come si chiama? Antonio Montana Antonio Montana Antonio Montana Eh Don't know No No Non vedete come si chiama? Simone Simone ok Ambrocco You Guardate You No 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 Simone Eh vabbè Venti po' Porco 2 Bellissimo Raga io spero che sto tuffo nel passato Vi sia piaciuto Mamma mia lasciate tanti like Se volete magari vedo un'altra chat Magari per gli 800 mila Signore se il video vi è piaciuto Pollicione in su commentate Condividete al prossimo appuntamento Pollicione per l'89 Stai pur sicuro Che prima o poi ti si incula il faguro Oh yeah